Ciao a tutti, siete già tanti, siamo già qua 140 partecipati, oggi sfondiamo la quota 200, comunque grazie per esservi iscritti così numerosi, questo è il terzo webinar di questo ciclo, abbiamo trattato all'inizio di settembre dopo le vacanze il tema del Freedom of Information Act, la libertà di accesso, poi la settimana scorsa l'etica delle scelte pubbliche, oggi trattiamo un altro argomento che a noi ci è molto caro, whistleblowing, la tutela del dipendente pubblico che segnala una condotta illecita, è un argomento che seguiamo da molto tempo, più o meno da quando in Italia si è cominciato a parlare, è un argomento molto interessante perché dietro c'è tutto un risvolto che non riguarda solo le procedure ma riguarda proprio il modo come noi ragioniamo, pensiamo, facciamo delle scelte, abbiamo costruito anche parecchia formazione su questo, parecchia riflessione. Oggi come pensavo di impostare questa presentazione, in quattro parti, non ci sarà proprio un filo rosso come negli altri webinar, anche se tenteremo un po' di percorrerlo, saranno quattro diversi pezzetti, insomma che io ho un po' estrapolato da cose su cui sto riflettendo adesso e cose su cui ho riflettuto ma che non ho ancora espresso pubblicamente, diciamo in qualche maniera. Però la prima parte è anche per cercare di mettere insieme qualche informazione su che cosa si sta muovendo in Italia su Whistleblower o cosa non si sta muovendo a secondo dei punti di vista, di che cosa magari ci sarebbe bisogno, di che cosa possiamo contare. Quindi una panoramica su quello che sta succedendo in Italia e poi un affondo sulla relazione ancora abbastanza sconosciuta tra whistleblowing e la gestione del rischio, qui gli amici responsabili della prevenzione della corruzione, tutti i soggetti referenti, ho visto che c'è anche un gruppo di ascolto a Messina che secondo me potremmo ragionare in maniera interessante su questa seconda parte, su come collegare il whistleblowing e le procedure di segnalazione alla gestione del rischio, che è sempre una cosa che non si sente, almeno in Italia non l'ho sentito ancora da molti. Il terzo livello è quello che secondo me anche mi sta più a cuore da un certo punto di vista è espandere il whistleblowing, perché l'Italia è forse una delle poche nazioni che ha adottato una politica di tutela solo per i dipendenti pubblici, mentre altre legislazioni non fanno questa differenza tra lavoratore pubblico e lavoratore privato e cerchiamo di capire le ragioni per cui forse sarebbe il caso di espandere l'istituto anche ai dipendenti privati. L'ultima parte, quella un po' più forse concettuale, è cercando di spostare l'attenzione dal whistleblowing e dal segnalatore, dal soggetto che fa effettivamente una denuncia al sistema del whistleblowing, che non è composto solo da chi denuncia, ma è composto da chi denuncia e da chi riceve la denuncia. Cerchiamo di aprire un pochino il ragionamento sul whistleblowing come relazione, come processo relazionale. Ok, se avete domande chiaramente non esitate a farle e proviamo a rispondere. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che, di segnalarvi, che non troverete nelle slide, ma giovedì 22 ottobre la RAI organizza qui a Roma una iniziativa che si intitola la cultura del whistleblowing, quindi in realtà molto simile a quello di cui parliamo noi oggi. Interessante perché ci sono personaggi sicuramente interessanti da ascoltare, prima fra tutti Raffaele Cantone che conosciamo tutti, c'è anche Gustavo Piglia che è un ottimo professore dell'Università Tor Vergata che da tanti anni si occupa di queste cose e vari altri relatori e tra l'altro questo evento viene dato in streaming perché lo fa la RAI e comunque ha tutti gli strumenti tecnici per fare una streaming, quindi se volete, secondo me è interessante, io penso che lo seguirò con attenzione, è promettente come argomento. Ripeto, la cultura del whistleblowing della RAI. Questo argomento è un argomento a noi caro, mi abbiamo un po' approfondito in vari ambiti, in varie situazioni, in vari progetti anche del Formez, queste sono le presentazioni che abbiamo già fatto, poi se volete potete acquisire maggiori informazioni anche riguardo all'elemento di base del whistleblowing di cui oggi parleremo solamente in maniera incidentale perché in qualche maniera li abbiamo già trattati precedentemente. Partendo dall'antica pillola di integrità del whistleblowing, passando per un'interessante presentazione che facevamo a giugno del 2014 quando invitammo alcune ASL italiane che tra le prime ad adottare delle policy di whistleblowing, ricordo l'ASL di Cuneo, l'ASL di Trento, l'ASL di Matera, ci vennero a raccontare, anche l'ASL di Modena, anche se poi non era presente, ci vennero a raccontare come avevano implementato le prime procedure di segnalazione all'interno delle loro organizzazioni, fu un evento secondo me molto interessante. Poi gestione di lei miei dice whistleblowing perché noi utilizziamo whistleblowing in formazione perché è uno dei dilemmi più interessanti che c'è, mi capita di vedere, di osservare un fatto illecito, da una parte vengo spinto a segnalare perché magari tengo all'interesse pubblico, dall'altro vengo frenato perché penso di poter subire delle ritorsioni, questo accende un interessante dilemma etico, interessante non tanto per chi lo vive, ma per chi lo osserva sicuramente sì, sulla base del quale noi poi abbiamo costruito tutta una serie di riflessioni sull'istituto, ma non solo, proprio sulla strategia anticorruzione, come non lasciare solo il soggetto che si trova in quella situazione, come costruire intorno degli strumenti, dei modi per non scegliere la via sbagliata che in quel caso è non segnalare, però segnalare in maniera che qui uno non debba rischiare la propria carriera professionale e in alcuni contesti anche la propria vita. L'ultimo è il 20 ottobre 2014, l'istituto del whistleblowing e qui secondo me questo è quello che a me è più caro perché in qualche maniera qui non abbiamo nulla a che fare con il whistleblowing dal punto di vista giuridico e delle procedure, ma sul senso proprio della segnalazione, qui se qualcuno di voi si ricorda abbiamo trattato del parresiasta, cioè di colui che dice il vero senza paura, che è un'antica modalità che utilizzavano gli antichi greci, si dice appunto che Socrate fu il primo parresiasta della storia perché amava dire le cose come erano e per questo era a rischio la sua vita, tanto che come tutti sanno poi ha fatto la fine che ha fatto, fu costretto a bere la cicuta. Ok, cominciamo con la situazione italiana, abbiamo preso un po' di tempo per far arrivare un po' tutti, sono le 12.15 quindi ormai siamo in linea per poter cominciare. Ho fatto qui una serie di divagazioni, sopra la superficie, sotto la superficie, sviluppi promettenti, questioni aperti e poi una parte che ho chiamato dispositivi per l'affondamento insomma perché ci sono dei rischi connessi a come in questo momento viene in qualche maniera vissuto, ma non solo vissuto, come funziona in questo momento il whistleblowing cosiddetto all'italiana, noi abbiamo una versione abbastanza peculiare del whistleblowing. Allora, questo l'abbiamo già detto, ecco questa slide è un po' pasticciata però immaginate che state al mare, sopra una barca e in qualche maniera sopra c'è la superficie del mare e quindi c'è il cielo azzurro e quello che si osserva in maniera abbastanza evidente e visibile sotto c'è il mondo sommerso, il mondo che vive sotto la superficie, il whistleblowing in Italia ha queste due modalità, ho cercato di visualizzarla in questo modo, sopra la superficie si agisano e si muovono dei macrosistemi, dei macroprocessi e chiaramente sopra la superficie immaginiamo soprattutto la legge 190 del 2012 che in qualche maniera ha avviato questa riflessione sull'istituto del whistleblowing in italiano, l'ha introdotto, ha introdotto la tutela del dipendente pubblico, bisogna capire bene questo, non è che prima non esisteva il whistleblowing, nel senso che il pubblico dipendente, l'incaricato di pubblico servizio che osserva una notizia di reato era comunque obbligato a fare denuncia all'autorità giudiziaria, quello che introduce l'articolo della legge 190 è intanto una maggior tutela rispetto all'interno della legge delle eventuali ritorsioni del whistleblowing e poi successivamente il piano nazionale anticorruzione si focalizza anche molto sulle prosiddette procedure, come garantiamo al potenziale segnalatore tutela della riservatezza, quindi il cosiddetto anonimato che erroneamente viene chiamato anonimato e quindi il fatto che uno segnala mettendoci nome e cognome, ma comunque il suo nome e cognome rimane interno, riservato, questo viene ben descritto dal piano nazionale anticorruzione che fa un passo in avanti rispetto alla legge 190. Quindi sopra la superficie si agilano questi meccanismi, ancora piuttosto informazione, noi abbiamo una legge ancora piuttosto vaga su alcuni punti, poi vediamo quali sono questi punti. A colmare alcune lacune, nell'aprile di quest'anno dopo una consultazione pubblica è arrivata la famosa determinazione ANAC, famosa per noi che ci lavoriamo, però è una delle due determinazioni che quest'anno emerge, la seconda è quella che poi vedremo sull'estensione delle misure anticorruzione anche alle società partecipate e controllate. L'ANAC decide di tirar fuori delle linee guida sia per le segnalazioni che arrivano all'ANAC stessa, sia per le segnalazioni che in qualche maniera vengono gestite a livello locale dai singoli responsabili di anticorruzione, mette in consultazione un documento, poi viene approvato, sono arrivate molte interessanti proposte di revisione, alcune integrazioni etc. Chiaramente molto ha fatto discutere, fa discutere, anonimato sì, anonimato no, questo ormai è abbastanza chiaro che in Italia il dibattito su questo poi in qualche maniera è quasi tutto su questa questione del mantenere segreto il nome del segnalatore oppure in qualche modo fare in modo che segreto ma riservato, quindi comunque noto, oppure avvalorare la tesi che si possono accettare anche segnalazioni completamente anonime che è un altro punto di vista interessante e tutti e due gli approcci hanno un loro senso, in questo momento quello prevalente è la linea dell'ANAC che invece esprime chiaramente il fatto che le segnalazioni devono essere non anonime e che però l'identità del segnalante debba essere opportunamente tutelata. Sotto la superficie invece che si agita? Si agita il lavoro di tantissimi di voi, soprattutto responsabili di anticorruzione, di organizzazioni pubbliche che si sono poste il problema di come gestire questa che per molti anche può essere considerata benissimo una patata bollente, la vera grande patata bollente perché è difficile, è una questione molto complessa, molto difficile da gestire. Sotto la superficie secondo me è subito dopo il piano nazionale del 2013 il fatto che molte amministrazioni, alcune amministrazioni, in linea con la prima redazione del piano anticorruzione che è datata a gennaio 2014, cominciano ad adottare le prime polisi di whistleblowing, lo fa la ASL di Cuneo quasi in concomitanza con altre organizzazioni della sanità pubblica, poi cominciano anche dei comuni, adesso abbiamo un sacco di polisi anche molto diverse tra di loro, se ne possono trovare molte e molte in giro. Nel febbraio 2015, sempre parlando di sotto la superficie, abbiamo una polisi importante che è quella dell'Agenzia delle Entrate, che è una delle prime agenzie nazionali che si dota di una polisi, poi immaginate quanto sia importante una polisi nell'Agenzia delle Entrate, che sta dando secondo i rapporti che stanno tirando fuori anche degli interessanti risultati, si sta facendo molta informazione su questa polisi e secondo me è molto interessante. Il 17 giugno 2015, come vi dicevo, esce anche una seconda determinazione dell'ANAC, questa volta dedicata alle società partecipate, che estende anche la misura del whistleblowing alle società in controllo pubblico e questa crea un sacco di questioni che poi vedremo. Per ultimo vorrei segnalare una più recente di luglio 2015, circolare della Banca d'Italia, c'è un aggiornamento alla circolare 285 del luglio di quest'anno che in qualche maniera istruisce la via per il whistleblowing anche all'interno del settore bancario, questo è molto interessante per quel ragionamento che faremo dopo sulla estensione dell'istituto di whistleblowing ai privati. Quindi tutto questo movimento, come dicevo, ha dei promettenti sviluppi perché oltre a questa storia della Banca d'Italia che adesso vediamo in dettaglio, in realtà molte agenzie private, molte multinazionali si stanno dotando di procedure interne di segnalazione. Il recentissimo scandalo della Volkswagen ha messo in allarme molte di queste organizzazioni private forti per dire di dotarsi di effettive procedure di segnalazione interne perché poi il danno che ne ricevono quando scoppiano casi come quelli della Volkswagen è enorme, immaginate di quanti soldi stiamo parlando e lì c'è in gioco la reputazione di un'azienda che il danno reputazionale ha anche una consistenza economica molto alta. Quindi in realtà l'ispirazione viene un po' dall'estero, nel senso che piano piano, soprattutto immagino le multinazionali farmaceutiche, multinazionali che hanno sede e sistema centrale all'estero, cominciano a introdurre anche nelle agenzie locali, quindi anche in Italia, dei sistemi di segnalazione perché si prendono conto che prevenibili comportamenti fraudolenti, è meglio scoprirlo prima che il danno si verifichi in maniera così consistente come poi abbiamo visto che succede sostanzialmente. Le banche sono tra queste perché dopo la crisi e anche parallelamente alla crisi si è scoperto che molte banche hanno venduto probabilmente titoli che non avrebbero dovuto vendere, hanno messo a rischio interessi consistenti e soprattutto hanno messo a rischio, hanno danneggiato visibilmente la reputazione del settore bancario, allora la Banca d'Italia probabilmente anche per queste considerazioni ha dato una stretta e in qualche maniera ha imposto alle banche di dotarsi di meccanismi di segnalazione, li chiama sistemi interni, se poi vi leggete il documento, credo pagina 62, è molto interessante perché il capitolo sistemi interni di segnalazione delle violazioni descrive un po' come devono essere fatte queste procedure, devo dire è interessante perché riprendono alcune cose del piano nazionale anticorruzione, ne aggiungono delle altre, si vede come poi questi meccanismi piano piano si adattano l'uno all'altro, cominciano ad avere anche lo stesso, la stessa linguistica, gli stessi elementi linguistici, anche in questo caso le banche tutelano la riservatezza del segnalante, è interessante che loro tutelano anche il soggetto eventualmente segnalato, cosa che si dà un po' per scontata, ma è sempre importante, quindi una prima estensione, cominciamo a osservare delle estensioni interessanti, però sono estensioni date un po' da istituzioni centrali come la Banca d'Italia o eventualmente iniziative proprie di multinazionali, agenzie private, le questioni aperte, ce n'è una fondamentalmente che tra l'altro emerge in maniera molto netta, una contraddizione che emerge in maniera molto netta quando l'ANAC ha deciso insieme al Ministero dell'Economia di estendere le misure del piano anticorruzione anche alle società partecipate, alle società controllate, se vi leggete la determina numero 8, vedrete che a un certo punto, quando si parla di estensione delle misure obbligatorie, c'è anche il whistleblowing, però qual è il problema? L'ANAC già lo sottolinea con grande onestà, in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, questo è l'incipito dell'ANAC, ma perché? Perché l'articolo di legge della 190 parla di il dipendente pubblico che in ragione del suo lavoro pubblico osserva condotte illecite e le denuncia, quindi si parla espressamente del dipendente pubblico, non si parla di dipendenti privati che lavorano però all'interno di organizzazioni parapubbliche, diremmo così, quindi noi possiamo estendere il whistleblowing, la misura del whistleblowing alle società partecipate e controllate, ma c'è una contraddizione, nel senso che i dipendenti che sono e rimangono privati, a quei dipendenti non si può estendere questa tutela che invece dà la legge 190 e questo crea come potete immaginare un grosso dubbio interpretativo. Come si sta cercando di ovviare? Alcune indicazioni le vengono date anche dall'ANAC stessa, quindi le amministrazioni controllanti, quindi i comuni che hanno quote di partecipazione o controllano le società promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incorreggiare il dipendente a denunciare il lecito, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità, quindi in qualche maniera promuovono l'istituto del whistleblowing all'interno anche delle società partecipate e controllate, ma non si possono spingere fino a dire avrete la garanzia totale della tutela se poi qualcuno subisce una ritorsione, perché la legge 190 non li copre, parlando espressamente dei dipendenti pubblici. Alcuni comuni per esempio si stanno organizzando pensando di avere un'unica procedura, il responsabile della prevenzione della corruzione di un comune, parliamo di comuni piccoli o medi, adotta una policy di whistleblowing, una procedura di whistleblowing, un modello di segnalazione e lo estende, lo mette a disposizione anche dei dipendenti delle società a partecipare. Questo chiaramente non risolve la questione di cui ho parlato prima, ma sicuramente semplifica moltissimo, perché non possiamo avere 100 procedure diverse di segnalazione per i dipendenti privati, di società in controllo pubblico, molto diverse dalla procedura di segnalazione che ha il comune, l'amministrazione controllante, non avrebbe molto senso, secondo me la cosa migliore è che il responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione controllante si siede insieme ai neo responsabili delle società partecipate o controllate e insieme costruiscono un sistema unico di segnalazione, secondo me farebbe risparmiare un sacco di tempo e anche un sacco di energie che in questo momento sono anche da dedicare forse ad altro sostanzialmente. Ultima questione è quello che chiamo il dispositivo per affondamento, c'è una specie di mina che in qualche maniera gira sotto la superficie del mare, perché non è stata mai ancora troppo segnalata, ma è una di quelle cose che anche se il principio è giusto poi rischia di minare in profondità tutto l'istituto, almeno per come è costruito in Italia e che è una seconda parte di quel famoso articolo di cui vi parlavo della legge 190, la legge 190 nella prima parte, nel primo comma del whistleblowing parla di tutela del dipendente pubblico e segnalare leggi, ma poi sotto fa un passo in avanti, in qualche maniera ne delimita un pochino, si dice che dobbiamo garantire la riservatezza e tutelare la riservatezza del segnalante, però c'è un limite, nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, questo è il principio di base corretto, perché chiaramente se non ci fosse questo non esisterebbe il whistleblowing o la tutela del segnalante, non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione della debito disciplinare, e qui c'è il problema, sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata o per la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incorpato. Come vedete qui esiste la possibilità, una volta che qualcuno, in questo caso un giudice terzo o un collegio disciplinare decida che è necessario conoscere l'identità del segnalante, c'è la possibilità di rivelarla quando questa identità serva, la conoscenza sia assolutamente indispensabile per la tutela e la difesa dell'incorpato. Immaginiamo che per esempio arriva una segnalazione in cui qualcuno osserva una condotta illecita all'esterno dell'amministrazione, per cui per esempio un dipendente pubblico ha preso un permesso per legge 104 e poi invece si scopre attraverso l'osservazione diretta che questo sta facendo un lavoro presso un'altra società o presso un'altra. Chiaramente in quel momento chi fa questa osservazione, quindi il potenziale segnalante segnala questa condotta illecita attraverso le proprie procedure interne, questa storia arriva all'ufficio disciplinare, l'ufficio disciplinare non ha modo di acquisire altre evidenze, ma l'unica evidenza è l'osservazione diretta del tizio che ha fatto la segnalazione, a quel punto può chiedere, non c'è l'obbligo come vedete c'è scritto, può essere rivelata, se ritiene che conosce il nome e cognome del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa di chi è sotto accusa. Chiaramente in quel caso lo è perché è l'unica evidenza che abbiamo, però questo è un concetto anche condivisibile chiaramente, nel senso che siamo garantisti e giustamente ha un senso, però chiaramente come potete immaginare, mina in profondità la questione della riservatezza, nel senso che nel whistleblowing, la tutela della riservatezza è il principio che ne condiziona l'applicazione, se io non sono sicuro al 100% che la mia identità non verrà rivelata, faccio fatica a fare la segnalazione perché io sulla riservatezza della mia identità fondo praticamente tutto il mio affidamento. La certezza della tutela della riservatezza non può essere posticipata o condizionata da eventi successivi, quali ad esempio la valutazione da parte di un terzo, in questo caso il collegio disciplinare, del fatto che la contestazione sia fondata in tutto in parte sulla segnalazione, questo chiaramente mina in profondità l'intero istituto, il non essere certi se la propria identità verrà rivelata rappresenta il maggior deterrente alla segnalazione. Questa è una questione abbastanza controversa, come potete immaginare, questa formulazione rischia di creare parecchi problemi, tra l'altro è una formulazione tutta italiana, nel senso che non esistono in altri sistemi questo tipo di vincoli, di ostacoli alla segnalazione, poi proviamo a ragionare anche su come alcune amministrazioni hanno in qualche maniera risolto questo problema, ma ne parliamo fra un pochino. Quindi abbiamo fatto un po' il quadro della situazione italiana nel passato, presente e speriamo nel futuro, nella sua estensione, cerchiamo adesso di concentrarsi un po' sul whistleblowing come misura obbligatoria del piano anticorruzione e la gestione del rischio, io li ho chiamati nemici amici, ma perché in realtà non si incontrano mai, vivono delle vite parallele potremmo dire, la gestione del rischio ha un suo percorso molto chiaro, la whistleblowing normalmente nei piani anticorruzione viene messo a un certo punto del piano, nelle misure obbligatorie, però molto slegato dalla strategia complessiva. Ho cercato in questa presentazione di provare a connettere i due meccanismi, per fare in modo anche che nei prossimi piani anticorruzione che magari leggeremo, potremo in qualche maniera osservare anche dei tentativi di connessione. Se poi voi avete esempio, io non posso leggere tutti i piani anticorruzione di tutte le amministrazioni italiane, in cui il whistleblowing è stato già connesso con il sistema di analisi e gestione del rischio, sarebbe molto interessante osservarli, farli vedere. Qual è il problema? Che nella strategia di prevenzione della corruzione, come è noto a tutti, il ruolo centrale viene affidato all'analisi e gestione del rischio, è un po' come se in un progetto, è l'analisi dei fabbisogni, dall'analisi e gestione del rischio si capisce un po' che tipo di strategia devo adottare all'interno di quell'amministrazione. Qual è l'elemento chiaro della gestione del rischio? Si pone in essere questa attività per proteggere l'organizzazione pubblica e per identificare e gestire i rischi di fallimento etico, questa è la gestione del rischio, whistleblowing invece è una misura organizzativa, quindi sono due cose molto diverse, l'analisi e gestione del rischio viene all'inizio dei piani anticorruzione, in cui si descrive un po' come funziona quell'amministrazione, quali sono le aree più esposte, whistleblowing arriva un po' dopo, nelle misure obbligatorie, è una delle 10 misure obbligatorie e quindi se lo osservate dentro i piani anticorruzione viene di norma collocato nella seconda parte, raramente i due strumenti vengono associati in qualche misura, tra l'altro l'attuale dibattito su whistleblowing l'abbiamo già detto, si concentra tutto sulla tutela della riservatezza o se invece le segnalazioni possano essere anche anonime, il dibattito non è centrato su questa relazione, però mostra scarsa attenzione verso i potenziali benefici organizzativi della segnalazione nell'ottica dell'identificazione e della gestione dei rischi, ancora nessuno si è sperimentato nel provare a mettere insieme queste due cose, l'analisi e gestione del rischio e whistleblowing, perché? Perché la segnalazione paradossalmente, questo lo sperimentiamo tutti i giorni, però arrivano notizie quasi tutti i giorni, più che nella prevenzione del rischio viene vissuta dalle organizzazioni pubbliche come un generatore di rischio, ne abbiamo parlato già diverse volte, il fatto che un dipendente si esponga e denuncia anche internamente determinate situazioni molto scabrose, spesso e volentieri, molto più spesso viene vissuto dall'organizzazione come voler criticare o mettere in discussione qualcuno o qualcosa, l'attività o il lavoro di qualcuno, come in qualche maniera tentare di danneggiare l'immagine di quell'amministrazione, viene vissuta al contrario di quello che dovrebbe essere, se una persona denuncia un'attività potenzialmente illecita all'interno della propria organizzazione e lo facendone la cura, prendendosi cura dell'interesse pubblico, spesso e volentieri però ciò che gli ritorna indietro è ritorsione o semplicemente minimizzazione, non prendere in seria considerazione quella segnalazione. Perché? Perché questo è un comportamento che genera conflittualità, questo lo dobbiamo ammettere, nel senso che appunto è denunciare qualcuno che tra l'altro potrebbe stare dentro il tuo gruppo di lavoro, quindi è un comportamento, una condotta che genera una forte conflittualità all'interno delle organizzazioni. Chiaramente l'impostazione è che attraverso le conflittualità si genera il miglioramento dell'organizzazione, secondo invece come si sta vivendo adesso questa cosa è teniamo tutto un pochino a tacere perché se siamo tutti buoni il buon nome dell'organizzazione rimane preservato, sono due punti di vista molto diversi chiaramente. Colui che segnala piuttosto che essere percepito come un attore chiave del processo di analisi e gestione, cioè colui che fa emergere un rischio, diciamo così, è invece vissuto come un soggetto che mostra srealtà e infedeltà verso la propria organizzazione, abbiamo innumerevoli casi di questo, ne abbiamo già parlato anche altre volte con molti esempi. La segnalazione viene avvertita come antieconomica perché provoca uno stress all'interno dell'organizzazione, provoca un lavoro aggiuntivo, provoca delle decisioni importanti, onerose e spesso e volentieri molto complesse. I primi che in qualche maniera non digeriscono molto il whistleblowing sono proprio i dirigenti, il management che percepisce il whistleblowing come una minaccia all'autorità e al ruolo dirigenziale, anche quando poi queste segnalazioni non sono fatte proprio contro di loro, magari hanno a che fare semplicemente con altri soggetti, il gruppo di lavoro, però i dirigenti dicono se mi fai una segnalazione in qualche maniera è come se tu volessi mettere in discussione la mia capacità di controllare il buon andamento, la condotta dei miei sottoposti, se no diremmo così. Quindi quello che vorrei cercare adesso di trattare con voi è invece cerchiamo di ragionare su come si possono mettere in connessione queste due cose, come facciamo a far evolvere il whistleblowing da una sensazione, da una cultura di pesantezza o di conflittualità aggiunta, di pericolosità nei confronti dell'organizzazione, come facciamo invece a far evolvere l'istituto nella percezione delle persone come un valore aggiunto che in qualche maniera fa emergere i rischi connessi a determinate attività, rischi che magari non escono fuori facendo l'analisi del rischio. Attualmente in Italia noi abbiamo questi canali per la segnalazione, concettualmente ci serve per capire delle cose dopo, però abbiamo un whistleblowing interno che nasce con la legge 190, si tutelano i dipendenti pubblici che segnalano all'interno o all'esterno, però il piano nazionale anticorruzione sviluppa questa tesi e prevede delle specifiche procedure di segnalazione interna. La prima segnalazione è quella superiore gerarchico perché c'è un articolo del codice di comportamento che lo esplicita chiaramente, poi abbiamo una segnalazione responsabile della prevenzione della corruzione che viene fuori dal piano nazionale, ma poi recentemente l'anno scorso anche l'ANAC è stata in qualche maniera chiamata a ricevere segnalazioni, queste io le chiamo procedure di segnalazione interna, anche se l'ANAC potrebbe sembrare una segnalazione esterna, ma io la faccio rientrare all'interno del sistema di prevenzione. Poi abbiamo tutta una parte di segnalazioni esterne che sono canoniche, la Corte dei Conti, l'autorità giudiziaria, io metto anche i media perché anche quello tecnicamente è un whistleblowing, anche se è un whistleblowing in senso molto ampio, però anche quello è un whistleblowing, parliamo per esempio di Dan Snowden, parliamo di Assange, parliamo di questi whistleblowers, ma parliamo anche di chi poi fa esplicita delle informazioni a programmi televisivi abbastanza noti come quelli che abbiamo adesso in questa fase in Italia. Adesso ci concentriamo sui canali interni di segnalazione, perché è lì che vorrei condurvi in questo ragionamento, quindi lasciamo da parte un attimo il whistleblowing esterno. Allora, Hampton dice, è un famoso studioso di analisi e gestione del rischio, la necessità del whistleblowing è in un certo senso il segno del fallimento della governance e della gestione del rischio, quindi il primo tentativo di connettere whistleblowing e analisi e gestione del rischio è questa di Hampton, Hampton dice, se un'organizzazione svolge una perfetta analisi e gestione del rischio, un informatore interno non serve perché in realtà se tutti fanno il loro lavoro in maniera corretta, le aree al rischio emergono in maniera corretta e non c'è bisogno di qualcuno che dall'interno fa emergere invece in modo diverso un'informazione che potrebbe in qualche maniera far suonare un campanello d'allarme all'organizzazione stessa. Ognuno dovrebbe avere la facoltà di segnalare irregolarità e comportamenti non etici o illegali senza avere il timore di subire ritorsioni, questa però è appunto, l'ho chiamata in un mondo ideale, in un mondo ideale dove tutti i referenti anticorruzione cooperano con i responsabili di anticorruzione, non hanno secondi fini, non hanno interessi divergenti, non hanno interessi secondari, non hanno quindi conflitti di interesse a far emergere situazioni che invece sono la realtà, allora in quel mondo ideale in effetti il whistleblower non serve, non ha senso perché già tutte le informazioni emergono, però noi sappiamo bene di non vivere in un mondo ideale, io qui ho messo tre diverse tipologie di situazioni in cui ci potremmo trovare, chiaramente come tutte le generalizzazioni e categorizzazioni ai limiti che potete ben immaginare. Ho riportato il mondo ideale nella parte destra, clima etico ideale in cui l'analisi del rischio coinvolge tutti i soggetti giusti, questi soggetti sono pienamente affidabili, non sto parlando di affidabilità solo rispetto a non avere secondi fini o avere interessi illeciti, ma sto parlando di affidabilità anche da un punto di vista tecnico, cioè che sono persone in grado effettivamente di svolgere quel compito di analisi del rischio. Le questioni vengono discusse in un clima di apertura, cosiddetta discassability di cui parleremo anche tra un po' e quindi il whistleblowing interno ha una sponda organizzativa nel responsabile anticorruzione che è una persona che è competente in qualche maniera sa gestire procedure di whistleblowing e il whistleblowing interno è pressoché inutile perché in quel clima lì se qualcosa succede emerge subito la visibilità dell'organizzazione perché i referenti, quelli che devono alimentare il percorso informativo tra il settore lavorativo e il responsabile anticorruzione lavorano e sono pienamente affidabili, sanno fare quel lavoro e non hanno interessi in contrasto con quel lavoro. Chiaramente io ho messo la notazione sotto, ma ne avete mai visto uno di situazioni del genere? Se l'avete mai vista vi prego assolutamente ditemi dove sta perché io la voglio andare a vedere, perché io sinceramente trovo difficoltà, chiaramente è un mondo utopistico. Invece la parte centrale è una situazione che io osservo molto più spesso, probabilmente la osservate anche voi, un clima etico che io chiamo controverso, in cui l'analisi del rischio che viene effettuata con il coinvolgimento di soggetti che potrebbero essere non affidabili o potrebbero non essere tutti affidabili, io responsabile anticorruzione affido sia la parte iniziale di analisi del rischio, sia poi le informazioni, il monitoraggio sulla gestione del rischio a soggetti che in qualche maniera potrebbero o non essere capaci di farlo pienamente o potrebbero avere anche secondi fini, interessi confliggenti a far emergere situazioni e aree di rischio e quindi potrebbero non essere affidabili. In organizzazioni pubbliche medio-grandi è abbastanza facile imbattersi in queste situazioni, perché? Perché non è che il responsabile di anticorruzione può fare l'analisi del rischio da solo, anzi è lo stesso piano nazionale anticorruzione che impone al responsabile di dotarsi di un gruppo di lavori, i cosiddetti referenti anticorruzione che lo aiutino sia nella costruzione dell'analisi del rischio, ma sia soprattutto nella parte gestionale, nello scambio di informazioni. Ci potrebbe anche essere all'interno dell'organizzazione una situazione che io chiamo di chiusura e asservimento, cioè le questioni non vengono sollevate, non vengono discusse per la presenza di un clima di chiusura e asservimento, però il whistleblower interno ha una sponda nell'organizzazione, nel responsabile anticorruzione, cioè magari il responsabile anticorruzione non ha sotto controllo tutta l'organizzazione perché potrebbe esserci situazioni di non affidabilità, però in qualche maniera è una persona affidabile, in questo caso questo boe interno è assolutamente fondamentale come strumento per far emergere aree a rischio, il gap che si crea per incapacità dei referenti e per in qualche maniera deviazione delle informazioni, perché magari i referenti non sono pienamente affidabili si può colmare con il lavoro dei segnalatori interni, cioè i cosiddetti whistleblower interni, che possono far emergere situazioni che non verrebbero mai fuori con l'analisi del rischio canonico e potrebbero far emergere aree di rischio che non vengono sostanzialmente quasi mai trattate. L'ultimo livello è chiaramente un livello in cui noi non concentriamo più, non ci occupiamo noi di situazioni largamente colluse, perché noi trattiamo la prevenzione, la prevenzione come ho spesso detto deve basarsi su qualcosa che funziona, parliamo del responsabile anticorruzione, su un'integrità di fondo, perché altrimenti se c'è una diffusa collusione, se anche il responsabile anticorruzione in qualche maniera è colluso, la prevenzione non può funzionare, quindi anche i sistemi di whistleblower in interno non funzionano, infatti Mafia Capitale ci ha insegnato che dove c'è una larga collusione e che la collusione ha preso sia la componente professionale sia la componente politica delle amministrazioni, non emergono segnalazioni all'interno e ce ne dobbiamo far carico attraverso la repressione, quindi siamo fuori dalla prevenzione, ma noi ci occupiamo soprattutto, come vediamo in questa slide, con quelle situazioni che conosciamo meglio, cioè quelle che sperimentiamo quotidianamente, ma che hanno a che fare con quello che osserviamo anche noi, cioè i famosi climatico controverso, perché? Perché la realtà è complessa come al solito, non possiamo pensare che tutti la pensano come noi su tutte queste cose qui, possiamo anche pensare che alcune persone hanno degli interessi divergenti, non sto parlando semplicemente soltanto di interessi illeciti, parlo di interessi divergenti sostanzialmente, poi lascio a voi la lettura della notazione sulla prevenzione. Facciamo un esempio, perché abbiamo parlato tanto, adesso mi piacerebbe con voi fare un piccolo esempio, su come potrebbe essere importante utilizzare il whistleblowing come strumento per far emergere situazioni a rischio e quindi in qualche maniera collaborare e cooperare con l'analisi e la gestione del rischio. Parliamo sempre di questo famoso Mario Rossi che ormai credo vi abbia anche dato un po' fastidio, in questo caso Mario Rossi è responsabile della prevenzione della corruzione del comune di XY e ha deciso di farsi aiutare come succede sempre, quasi sempre, nella stesura del piano trinale di prevenzione della corruzione da un gruppo di referenti interni, normalmente il responsabile anticorruzione, penso che lo sappiate tutti, nomina alcuni referenti, spesso sono i dirigenti, spesso sono altre figure, comunque crea un gruppo di lavoro per svolgere e realizzare l'analisi del rischio sostanzialmente. Il primo contributo che chiede infatti a questo gruppo è aiutarlo a far emergere le aree a rischio. Nel piano nazionale anticorruzione c'è una specifica individuazione di un compito assolutamente specifico dei referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza, sta nell'allegato 1, poi magari se volete potete andarlo a vedere, questi referenti che devono fare? Svolgono attività informative nei confronti del responsabile, una volta fatta sia in fase di analisi del rischio, quindi dicono sostanzialmente responsabile, secondo me quest'area dove lavoro io, che conosco in qualche maniera, non ha particolari rischi, ha un livello di rischio sostanzialmente basso, quindi non dobbiamo caricare un sistema di controllo o delle misure anticorruzione su quest'area perché secondo me questa non è un'area particolarmente a rischio. Questo poi si traduce in attività informative successive alla implementazione della fase di gestione del rischio e a scambi di informazioni tra il referente e il responsabile di anticorruzione, qui parla infatti di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, etc. Questo è il quadro, che è l'esempio di cui facevo prima, analisi del rischio effettuata con il coinvolgimento di soggetti che potrebbero essere non affidabili, sempre per quelle due ragioni, uno perché magari non sono capaci a farlo quel lavoro, non riescono a far emergere le situazioni per come sono, non sanno leggere o interpretare informazioni, non sanno attribuire un senso, un valore a quelle informazioni magari. L'altra situazione potrebbe essere invece una situazione di collusione, non vogliono far emergere quelle informazioni perché quelle informazioni potrebbero danneggiare la promozione di un interesse secondario che è anche loro, teniamo basso il livello di rischio perché così nessuno può mettere il controllo su quelle operazioni che io stesso in qualche maniera aiuto a realizzare, che sono chiaramente delle operazioni illecite. Qui stiamo parlando di prevenzione della corruzione, non sto facendo questi esempi a caso. Secondo livello, il dottor Mario Rossi, sempre responsabile del comune, ha deciso di farsi aiutare, questo l'abbiamo già detto, terzo, eccolo qua. Seconda situazione, Roberto Bianchi è il nostro potenziale whistleblower, quindi Rossi è responsabile di anticorruzione, Bianchi, scusate la banalità dei cognomi, invece è il nostro potenziale whistleblower. Chi è questo Bianchi? Lavora presso l'ufficio scolastico del comune, lo stesso comune, chiaramente il dottor Rossi, ha notato strani movimenti di alcuni funzionari, finché un giorno è stato testimone di una conversazione tra un suo collega e una cittadina utente. Il collega anticipava l'utente incautamente come esito di un accordo, l'esito positivo di talunni i procedimenti attribuendose nei meriti pur essendo soggetti a riservatezza, chiaramente qui sta violando una specifica norma del codice di comportamento. Quindi il dottor Bianchi osserva questa situazione, due che parlano, uno è un collega, l'altro è un utente, il collega sta rivelando delle informazioni che non potrebbe rivelare, tra l'altro sotto questo colloquio si sembra che ci sia anche un accordo precedente, per cui quella situazione è andata a buon fine per via di questo accordo. Il dottor Bianchi non se la sente di riferire questi comportamenti al suo dirigente, come gli imporrebbe la regola dell'articolo 8, perché ha notato che quando altri hanno sollevato questioni comportamentali, il dirigente ha avuto reazioni molto negative accusandoli di denigrare il lavoro di quell'ufficio. Abbiamo messo in un caso quello di cui vi parlavo prima, l'atteggiamento abbastanza tipico del management pubblico quando viene in qualche maniera sollevata una questione etica o comportamentale all'interno del proprio gruppo di lavoro, reagiscono in maniera difensiva, pensando che anche quando non sono strettamente collegati, anche quando non sono proprio collegati, spesso e volentieri osserviamo reazioni difensive, mi stai creando un problema con quella persona, mi stai mettendo sotto una cattiva luce, stai mettendo sotto una cattiva luce la mia capacità di gestire il gruppo di lavoro etc., in quel momento quel clima etico che abbiamo chiamato controverso, il dottor Bianchi, il nostro potenziale whistleblower sperimenta quella che ho chiamato l'assenza di discassabili, cioè l'incapacità del management di prendere in seria considerazione le questioni etiche e comportamentali che vengono sollevate all'interno del proprio gruppo di lavoro. Però il nostro potenziale whistleblower, il dottor Bianchi che lavora presso te, potrebbe anche in qualche maniera non riferire assolutamente questi comportamenti, l'abbiamo già detto al proprio superiore gerarchio, ma va direttamente al responsabile anticorruzione. Quindi andando a segnalare il comportamento funzionale al responsabile anticorruzione, lui si dota e compila il modello che è stato predisposto e che si può trovare facilmente nella intranet dell'ente. In questo momento Bianchi sperimenta l'affidabilità del responsabile della prevenzione della corruzione, in effetti lui sperimenta che all'interno dell'amministrazione c'è una sponda organizzativa a cui lui può fare riferimento, può segnalare questi comportamenti. Ultima fase, il responsabile avvia un'attività ispettiva rispetto all'ufficio scolastico, a seguito dell'attività di analisi del rischio, quell'ufficio scolastico era stato individuato come al rischio bassissimo. Il referente anticorruzione di quel gruppo, di quel comune aveva detto che all'ufficio scolastico non succede niente, comunque non abbiamo particolari situazioni di rischio. Quindi non era emerso nulla nella fase di analisi del rischio. L'attività ispettiva invece fa emergere che questi comportamenti non solo esistono, ma sono una prassi abbastanza rilevante e quindi avvia una procedura di segnalazione all'ufficio disciplinare. In questo modo questo caso ci illustra come a seguito dell'analisi del rischio magari un'area al rischio non viene rilevata, ma a seguito di una segnalazione si può effettivamente fare in modo che questa area venga sottoposta a maggior controllo. Che fa infatti il dottor Rossi, il responsabile anticorruzione? Nell'indirizzare la segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari non utilizza la segnalazione del dottor Bianchi, ma le evidenze che emergono da proprio certamente distinti e ulteriori. In questo modo la riservatezza del segnalante è certamente tutelata. Vi ricordate all'inizio quando abbiamo parlato dei dispositivi per affondamento? Se il responsabile anticorruzione utilizzasse la segnalazione che ha ricevuto, quella del dottor Bianchi, per aprire un procedimento disciplinare, potrebbe succedere che poi la commissione di vigilanza, l'organo disciplinare, scopre che quella è l'unica evidenza che ha a disposizione, quindi potrebbe chiamare il dottor Bianchi, il whistleblower, a rendere pubblica la sua identità. Questo chiaramente minerebbe molto il rapporto di fiducia tra il whistleblower, il dottor Bianchi e il responsabile anticorruzione che invece è tenuto a garantirgli la tutela della riservatezza. Qual è l'escamotage che si potrebbe mettere in piedi? Il responsabile anticorruzione non utilizza mai la segnalazione come fatto di prova, come evidenza, ma utilizza la segnalazione come l'avvio di un procedimento in cui acquisisce ulteriori informazioni. Quelle ulteriori informazioni, se effettivamente le riesce ad acquisire, le utilizzerà per avviare il procedimento disciplinare. Se non riesce ad acquisire altre informazioni, tornerà dal whistleblower, cioè il dottor Bianchi, e gli chiederà, io non sono riuscito a trovare altre fonti di evidenza, quindi se io avvio la procedura disciplinare, probabilmente ti chiederanno di rivelare la tua identità. A questo punto che vuoi fare? Andiamo avanti lo stesso oppure no? In quel momento conta la risposta del whistleblower. Se il whistleblower non vuole andare avanti perché ha paura che poi subirà delle ritorsioni, non si andrà avanti, cioè il responsabile della prevenzione della corruzione non andrà avanti. Chiaramente effettuerà ulteriori accertamenti, però non andrà avanti. Questo nel principio che la prima cosa da tutelare è la riservatezza del segnalante, è il cosiddetto affidamento sul fatto che lui, quando segnala, deve essere certo che sia la sua, l'ultima parola, rispetto a rivelare la sua identità oppure no. Questo è un escamotage che sta prendendo piede in qualche maniera tra i responsabili di anticorruzione e che tutela la riservatezza del segnalante. Poi, cosa ancora più importante per noi, nell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione, il responsabile anticorruzione innalza il livello di rischiosità dell'area in questione, in questo caso dell'ufficio scolastico, perché ha acquisito questa informazione. Questo gli consentirà di applicare, ad esempio, ma non per forza, la misura della rotazione degli incarichi. Quindi questa segnalazione può avere un effetto da un punto di vista disciplinare, però sicuramente avrà un effetto da un punto di vista della scrittura e della revisione del piano anticorruzione. Quello che non era uscito fuori con l'analisi del rischio esce fuori con le segnalazioni, si innalza il livello di rischiosità, innalzando il livello di rischiosità il responsabile della prevenzione può effettivamente utilizzare alcune misure molto forti, come per esempio la rotazione degli incarichi. La rotazione degli incarichi andrà a scardinare quel sistema e in maniera assolutamente neutrale, senza che nessuno si faccia male, quel sistema potrebbe essere in qualche maniera ripristinato, questo sistema potrebbe essere ricondotto all'interesse pubblico. Adesso mi prendo giusto 5 minuti per rispondere alle vostre domande, prima di andare oltre questa... In un paese ad elevato tasso di corruzione il problema è sempre lo stesso, ovvero chi controlla il controllore ci chiede Marco Caprio, nel caso specifico chi garantisce al segnalante che tutte le persone responsabili di gestire la sua segnalazione siano affidabili? Questo è il centro e il cuore dell'ultima parte della questione che è una relazione. In questo momento in Italia, lo dico in maniera molto aperta, secondo me una persona segnala solo e soltanto se si fida ciecamente del responsabile anticorruzione, se c'è un affidamento serio e motivato nei confronti del responsabile anticorruzione. Perché come avete visto prima, la tutela a 360 gradi della riservatezza non ce l'abbiamo ancora, abbiamo quella clausola che in qualche maniera non ci permette di avere una certezza totale, quindi secondo me è nel rapporto che si instaura o nella percezione che il segnalante ha del proprio riferimento, che in questo caso è responsabile anticorruzione, che sta la questione. Se io mi fido di quella persona, so che lavora bene, so che lavora con le attenzioni di cui vi ho parlato adesso, lui mi chiederà sempre l'ultima parola sul fatto se io accetto che la mia identità possa essere rivelata oppure no. Questo modo di gestire il whistleblower non è che ce l'hanno tutti i responsabili anticorruzione, perché questo fa parte di un percorso di esperienza, di studio, di approfondimento, e quindi in realtà tu dici una cosa giusta, non ammetterei tanto su chi controlla il controllore, che già è una questione rilevante, ma appunto quanto ci fidiamo del nostro responsabile. E non è solo un'affidabilità rispetto a terzi fini o fini illeciti, parlo anche proprio della capacità di gestire una questione così complessa in cui ci sono elementi giuridici, ma ci sono dei fortissimi elementi, come potete immaginare, psicologici, emotivi nella gestione delle segnalazioni, di questo ne abbiamo già parlato. Quindi in effetti è lì che andrebbe rafforzata la normativa, nel dotare i responsabili di procedure certe, nella selezione dei responsabili, nel fatto che i responsabili rispondano chiaramente non tanto alla componente politica, perché lì si potrebbe annidare quel discorso che fai tu Marco, ma rispondano invece a un'autorità terza. Queste sono evoluzioni che noi chiediamo da tanto tempo, però spero che prima o poi ci arriveremo rispetto a questa cosa. Melina Barilla parla, provocazione, chi tutela i dirigenti da segnalazioni pretestuose per i picchi personali? La delibera ANAC prevede che si possa procedere con un procedimento disciplinare nei confronti dei pretenti solo nei casi di calugna e diffamazione accertata. Questo è un altro buco, anche l'altra volta ne parlavamo, nella questione che in realtà forse sarebbe il caso di tutelare il dipendente anche nei casi di cui non ci sia la sentenza passata in giudicato, ma anche il primo grado di giudizio, basterebbe quello sostanzialmente, però anche questo è un problema, nella registrazione italiana non viene affrontato, viene affrontato appunto, come dici correttamente, sulla questione della diffamazione e la calugna. Esistono anche altri livelli, esiste il livello dell'errore per esempio, quando qualcuno segnala una condotta perché interpreta una realtà diversa da quella che è, e quindi non tanto per ragioni di diffamazione, ma semplicemente perché sbaglia a interpretare un fatto sostanzialmente, anche in quel caso chi tutela chi. E' interessante che per esempio nella procedura della Banca d'Italia, quella che vi ho fatto vedere prima, che è uscita a luglio di quest'anno, è esplicitamente scritto che si deve tutelare anche il segnalato, ma questo a tutti i livelli funziona così, io che lavoro per esempio con le procedure di segnalazione che hanno a che fare con abuso, maltrattamento e sfruttamento di minori, lavoro con Save the Children su queste tematiche qui, noi sappiamo benissimo che oltre alla tutela del minore, che è la prima cosa e credo siano tutti d'accordo su questo, ci potrebbero essere in alcuni determinati contesti delle situazioni in cui debba essere tutelato anche il segnalato, cioè colui che è stato incolpato, perché? Perché abbiamo a che fare con i minori, con soggetti che in determinati contesti e per la vita che magari hanno sofferto, possono manipolare delle informazioni, magari denunciando cose che non sono mai esistite, per noi è molto chiaro che la riservatezza della segnalazione ha come effetto, dovrebbe avere come effetto anche la tutela del segnalato, questo non lo ritroviamo ancora, perché come dicevo prima, la normativa che abbiamo a disposizione è molto scarna, ancora molto basica, non è molto raffinata, se volete approfondire sulla raffinatezza delle normative vi consiglio il Public Internet Interest Disclosure Act, il PIDA inglese, che trovate online in qualche maniera, ma lì veramente capite come potrebbe evolvere. Allora, ancora Marco, sempre perché viviamo in un paese dove l'etica è scarsamente diffusa, personalmente sono contrario al whistleblower anonimo, segnalazione inviata con raccomandata postale, diversamente quali garanzie abbiamo che lo strumento non venga utilizzato in modo inappropriato a scopo ritorsivo? Sì, questo è anche l'approccio vincente in questa fase, ti devo dire anche io ero partito con questa idea, anzi probabilmente ancora sono di questa idea, però a seguito della consultazione ANAC ci sono stati degli interessanti contributi che hanno messo al centro proprio la questione che ti dì tu, la questione dell'anonimato e in alcuni altri ordinamenti, ti dico come funziona, in realtà non interessa per nulla la questione soggettiva, cioè se una segnalazione è fatta da tizio, se è fatta in maniera anonima, se è fatta in maniera riservata o addirittura con uno pseudonimo, non interessa nulla, possono arrivare in qualsiasi modo, la questione è legata alla rilevanza oggettiva della segnalazione, cioè se quella segnalazione nonostante arrivi anche in forma anonima, in effetti dopo una breve indagine risulta fondata, allora non mi interessa il fatto che sia anonima, ma perché questo? Perché in altri ordinamenti, e poi forse riusciremo a vederlo se magari abbiamo ancora un po' di tempo, al centro della segnalazione non c'è solo la corruzione, che è per noi il core business del whistleblowing, in realtà in altri ordinamenti, in inglese, ma in tutti gli altri ordinamenti anglosassoni, da dove viene questo istituto, si segnala soprattutto quando c'è un pericolo per la salvaguardia e la salute dei cittadini sostanzialmente, quindi in realtà è poco interesse a capire se quella segnalazione è anonima o no, perché se quella segnalazione individua un pericolo reale, io devo comunque prenderla in seria considerazione, anche se la proviene da una fonte anonima. Questo è un altro modo di concepire whistleblowing, mi rendo conto che noi non ci stiamo ancora su questa cosa qua, è un po' diverso perché dovremmo allargare, come dicevo prima, estendere non solo ai soggetti che possono fare segnalazione, ma anche all'oggetto della segnalazione, che non è solamente il fatto illecito, ma è ogni comportamento condotta pericolosa per l'interesse pubblico, è in grado di recare danno a persone o a cose, come in altri ordinamenti è. Antonio, vediamo un po', come si concilia il ruolo di amministrazione e di amministratore del sistema con l'obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni nel caso in cui il whistleblower viene supportato con una piattaforma informatica? Esatto, sai come fanno tanti, come ho capito che fanno, soprattutto ti dico un esempio che ho sentito recentemente con una multinazionale, in realtà la gestione sistemistica, quindi informatica delle segnalazioni che è scaldamente promossa anche dall'ANA che dice dotatevi di sistemi informatici perché la mail con tutta la buona volontà può essere oscurata, ma fino a un certo punto, dotatevi di sistemi informatici, alcune multinazionali, soprattutto alcune farmaceutiche che ho capito che hanno inserito, utilizzano società esterne e poi in qualche maniera all'interno del contratto impongono delle clausole ferree di riservatezza, chiaramente le società esterne che gestiscono questi sistemi già esistono, in Italia ce ne abbiamo alcune anche molto importanti che stanno curando i sistemi di questo problema e addirittura in Francia, però in Italia sono completamente dimenticati, quindi una cosa che si dovrebbe fare è fare in modo che non sia l'amministratore di sistema dell'amministrazione a curare questa cosa perché in qualche maniera gli si imporrebbe anche un carico di responsabilità molto forte, però la clausola di riservatezza se dovesse essere così è imposta anche all'amministratore di sistema, a tutti gli stessi obblighi di riservatezza che ha responsabile di anticorruzione, questo andrebbe scritto in maniera molto netta all'interno delle polisi di questo bloc, perciò è importante dotarsi delle polisi, perché nelle polisi tu scrivi nero su bianco quali sono gli obblighi di riservatezza e chi è il titolare di quegli obblighi di riservatezza, in questo caso se la procedura è informatizzata l'obbligo di riservatezza cade anche sull'amministratore di sistema. Esatto, Antonio fa la seconda domanda, ne abbiamo già accennato sulla questione dei conflitti di situazioni di conflitti quando il responsabile della prevenzione e di nomina politica e l'eventuale segnalazione riguarda il vertice politico, non auguro mai ai miei amici responsabili di anticorruzione questo tipo di segnalazione perché effettivamente scatena una situazione molto controversa, perché da una parte c'è il mandato istituzionale che è quello di prendere sempre in seria considerazione le segnalazioni, soprattutto quando giustamente sono fondate, dall'altra c'è il fatto che tu in qualche maniera sei stato selezionato dalla componente politica che è la stessa che è in questione, questo è un problema che nasce con la 190, nel senso che come vengono selezionati i responsabili di anticorruzione è sempre stato un aspetto controverso di questa norma, queste sono le situazioni che poi ti fanno capire quanto è controversa questa norma rispetto a questo dettaglio, la nomina politica del responsabile di anticorruzione. in questo momento non c'è una soluzione, l'unica soluzione è che il responsabile faccia il suo mestiere e in qualche maniera vada oltre la cosiddetta situazione di conflitto e se c'è fondatezza nella segnalazione denunci anche la componente politica, questo è nel lavoro del responsabile anticorruzione, però è chiaro che tu hai centrato un altro degli elementi deboli di questo impianto normativo. Ma il responsabile può omettere di avviare un'azione se ha una sensazione concreta, ma l'autore non vuole essere rivelato? Questo è l'altro aspetto controverso, si può prendere la responsabilità di farlo se pensa, se ritiene che il principio di base fondante dell'istituto del whistleblower nella sua organizzazione sia la tutela dell'identità del segnalante, tanto poi, prima o poi, perché questo succede sempre, la segnalazione, lui avendo avviato un'attività ispettiva, sapendo benissimo che i comportamenti delle persone non sono mai una sola volta, ma purtroppo sono conseguenziali nel tempo, probabilmente ricadrà. Qual è il ragionamento che bisogna fare? Se il segnalante non dà il proprio assenso a rivelare la sua identità, secondo me il responsabile non deve utilizzare quella segnalazione, deve aspettare che lui stesso attraverso le sue attività ispettive successivamente potrà fare emergere altri fatti, altre condotte illecite. È chiaro che in quel momento, come giustamente dici tu, si sta sacrificando un'informazione, ma quella informazione la stiamo sacrificando e facendo emergere il vero principio fondante dell'istituto whistleblower, che è la tutela della riservatezza, se il segnalante non è convinto al 100% che la sua è l'ultima parola e lui non ti faceva nemmeno quella segnalazione, non so se è chiaro, non sarebbe mai stato avviato nemmeno quell'avvio di quell'attività ispettiva. Io direi però di andare avanti perché volevo farvi vedere un'ultima cosa, poi magari se abbiamo tempo vediamo anche l'ultima domanda perché vi volevo semplicemente in maniera molto rapida fare una carallata sul motivo per cui secondo me è importante espandere il livello soggettivo del whistleblower, non solo il dipendente pubblico, ma anche tutti i dipendenti, anche privati, perché in tutti i lavori c'è una componente pubblica, non saprei come esprimerlo diversamente questa cosa qui. Esiste un reale bisogno di estendere questo istituto anche al settore bianco, ma basterebbe osservare i comportamenti recentissimi di alcune multinazionali, di alcune aziende che dal punto di vista reputazionale erano il massimo, immaginate la Volkswagen che tra di noi e tra di voi fino a poco tempo fa non pensava che la Volkswagen fosse il top nella categoria automotive, io ho anche avuto una macchina fortunatamente non diesel, però immaginate che danno ha ricevuto all'immagine, interesse pubblico, adesso vi ho fatto degli esempi, non ve li sto tanto a raccontare, però se poi volete potete approfondire, qua stiamo parlando per esempio di una capoinfermiera in una casa di cura privata, la casa di cura privata anche se la capoinfermiera ha un rapporto di tipo privato, dipendente privata di una società che in qualche maniera gestisce questa casa di cura, però svolge un ruolo pubblico nella cura, prendersi cura dei pazienti, quindi perché non dovrebbe avere a disposizione delle procedure intene? Stiamo parlando di procedure intene perché chiaramente essendo anche incaricata secondo me di pubblico servizio, se stiriamo un po' la norma dell'articolo 331 del codice pubblico penale, probabilmente sarebbe sottoposta anche a una denuncia ad autorità giudiziaria, però rimaniamo nell'ambito interno, perché è importante creare delle procedure interne? Perché internamente si può risolvere più velocemente, si può fare in modo che quei danni non vengano effettivamente causati e poi è molto diverso che una denuncia ad autorità giudiziaria venga fatta da un dipendente sconosciuto, privato, che in qualche maniera fa emergere anche una situazione di conflittualità con la propria azienda, è molto diverso se è la stessa azienda che denuncia i comportamenti illeciti di propri operatori, in questo caso sanitari, perché in quel modo l'azienda sta dimostrando, anche se poi comunque avrà un'esposizione mediatica negativa, che sta prendendo in seria considerazione l'interesse dei propri utenti, difendendosi nei confronti di comportamenti degli stessi propri operatori, da un punto di vista dell'esposizione mediatica, questo chiaramente è molto diverso, immaginate quanto è differente questa situazione. Ve ne faccio un altro, questo è un caso, chiaramente mentre prima era inventato, questo è un caso molto noto, io lo cito spesso nella formazione, perché vi fa capire come è l'estensione del whistleblowing e questo è il caso di un traghetto che nel 1987, l'Earald of Free Enterprise, una situazione molto nota, io tra l'altro me lo ricordo quando è successo, partì dal porto di Zebrugge trasportava cittadini inglesi e questo prese fuoco, non prese fuoco scusate, in seguito alla mancata chiusura di alcuni portelloni di accesso al garage, si capovolse sul fianco, morirono un sacco di persone, quasi 200 persone. Perché è importante? Perché l'indagine scoprì che molti di chi lavorava dentro a questo sfortunato traghetto avevano provato a sollevare la questione di questi portelloni che non venivano mai chiusi, questi portelloni non venivano mai chiusi, quindi si estiorava la tragedia ogni volta che questa nave andava. Si segnalavano ripetutamente queste situazioni, non venivano mai prese in seria considerazione, non venivano avviate nessun tipo di procedura, dopodiché è successa la tragedia. Questo viene proprio all'interno dell'atto, il Public Interest Disclosure Act del cosiddetto PIDA inglese, viene illustrato come uno dei tre casi che in qualche maniera sono stati alla base della costruzione della normativa sul Public Interest Disclosure Act, che non è una disciplina sul whistleblowing, attenzione, questo blowing è una parte di questa disciplina, la disciplina è su come è importante prendere in seria considerazione le denunce, le segnalazioni che arrivano dalle componenti professionali, non solo pubbliche, ma di tutte le componenti professionali, private, pubbliche, anche dei volontari volendo, perché questo ha effetto diretto con situazioni di rischio per la salute e la sicurezza delle persone. Quindi come vedete qui si apre il discorso sul whistleblowing. Vi faccio vedere questa slide, mettiamo l'ultima, immaginate anche una società farmaceutica, un dipendente che viene a conoscenza che alcuni test sono stati manipolati da ricercatori non indipendenti, questi sono fatti anche avvenuti, qual è l'unica strada in assenza di procedure interne? L'unica strada è la denuncia dell'autorità giudiziaria che è sacrosanta, però l'organizzazione privata si potrebbe dotare di procedure interne per fare in modo che queste cose vengano sollevate internamente e vengano risolte internamente, chiaramente se c'è la volontà di farlo. In assenza di procedure interne il dipendente potrebbe, come è successo nel caso del traghetto inglese, segnalare più di una volta al proprio responsabile questa situazione di cui lui è venuto a conoscenza, ma il responsabile potrebbe anche non prendere in seria considerazione le segnalazioni, invece dotarsi di una segnalazione interna significa che chiunque riceva una segnalazione è obbligato a prendere in seria considerazione, questa è la dicitura tecnicamente giusta, poi la segnalazione può anche dare un esito negativo, cioè essere infondata, ma intanto tu la prendi in seria considerazione, l'obbligo non è a denunciare, ma è a prendere in seria considerazione la segnalazione, perché è lì che fallisce la comunicazione interna, è lì che ci sono gli ostacoli più grandi, perché? Perché quando qualcuno, se io sono un manager e qualcuno mi segnala una condotta illecita, per me manager quelle sono rogne, nel senso che io dovrò metterci le mani, spesso e volentieri, non lo voglio fare, allora mi serve un obbligo a farlo, mi serve qualcuno che mi obbligo a farlo, perché poi queste segnalazioni vengono registrate e se il dirigente non prende in seria considerazione e non dimostra, sono guai per il dirigente. Il farmaco va in commercio e il danno si verifica sia nel fallimento dell'interesse pubblico, quindi a danno della salute pubblica e sia da un punto di vista reputazionale rispetto all'azienda. Ok, whistleblowing come relazione non ve lo dico, nel senso che ve lo lascio alla vostra lettura se volete, sono poche slide ma secondo me interpretano bene che significa relazione, poi magari ci possiamo tornare qualche volta. esperienze di whistleblowing anche ai cittadini, quali limitazioni potrebbe la normativa vigente? La grande differenza è che la normativa vigente tutela il dipendente, non il cittadino e soprattutto il dipendente pubblico, quindi abbiamo due limitazioni fondamentali, tra l'altro il cittadino perché teoricamente non sarebbe interessante includerlo, perché non essendo calato all'interno dell'organizzazione, nel senso che il cittadino è un esterno, potrebbe non avere alcun interesse a essere tutelato perché in realtà la tutela del segnalante è perché poi lui ritorna nel suo ambiente di lavoro ed è lì che potrebbe ricevere delle ritorsioni, questo da un punto di vista teorico, però ti assicuro che molti ci stanno pensando ad estendere anche ai cittadini, perché in realtà magari la ritorsione non può essere vista da un punto di vista del gruppo di lavoro, ma potrebbe essere vista come ad esempio la negazione di un'autorizzazione, la negazione di un provvedimento amministrativo come forma di ritorsione, quindi in realtà potrebbe anche il cittadino subire delle ritorsioni, questa è un'eventuale altra estensione che potremmo immaginare, ti dico però che la AS di Trento, se vai sul sito e vai a vedere la policy di whistleblowing, è molto interessante perché mette insieme le segnalazioni dei cittadini con le segnalazioni dei dipendenti pubblici, è l'unica in Italia, credo che lo faccia, hanno un modo di farlo assolutamente tipico loro, si sono gettati in questa sperimentazione che secondo me è molto interessante, tecnicamente non è whistleblowing perché non c'è il rapporto di lavoro, però ha un senso, nel senso che ti dicevo prima. Ok, mancano solo due minuti, non ce la faccio a rispondere a tutti quanti e vi vorrei salutare anche perché è stata un'esposizione molto ampia e spero di non avervi annoiato troppo su queste questioni, questo poi può essere visto come una cosa molto banale e molto complessa, insomma la cosa importante, credo centrale sia il fatto che non è che whistleblowing prima non c'era, il dipendente pubblico comunque era sottoposto a obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria, alla corte dei conti, ma quello che viene introdotto è la tutela, che una volta che poi questo rientra nell'organizzazione lavorativa non subisca ritorsioni da parte di chi poi lui effettivamente ha segnalato, questa è la differenza rispetto a prima, non è che prima non c'era l'obbligo di segnalazione, adesso vengono introdotte delle procedure interne di segnalazione che se ben fatte, se ben gestite garantiscono una tutela anche dell'organizzazione, non solo del segnalante, ma anche dell'organizzazione che si dota di strumenti per prevenire in maniera molto più radicale l'insorgenza di fenomeni correttivi e soprattutto si dota di strumenti per far emergere realmente le aree a rischio, che spesso e volentieri l'analisi di rischio non coglie perché l'analisi di rischio alla fine è un tecnicismo, è una ricostruzione di una realtà. Ok, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo a dicembre.